Si è svolto ieri, presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, ente capofila del piano di zona ambito S2 Cava Costiera Amalfitana, un incontro congiunto tra gli amministratori dei comuni del piano di zona e il personale dipendente. A presidere l'incontro è stato il sindaco del comune di Cava, Vincenzo Servalli. Al momento di confronto hanno preso parte per il comune di Scala il sindaco Luigi Manzi e l'assessore alle politiche sociali Ivana Bottone. Il sindaco del comune di Ravello Paolo Villemier, il sindaco del comune di Tramonti Domenico Amatruda e l'assessore alle politiche sociali del comune di Minori Maria Citro. Al centro della discussione è stata soprattutto l'importante scadenza riguardante il piano nazionale di ripresa e resilienza che vedrà l'ambito S2 impegnato nei adempimenti previsti. A questo si è aggiunta l'illustrazione dei compiti che sono già a carico dell'ufficio di piano dell'ambito S2. L'appuntamento con il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha affermato il sindaco Servalli, ci vede direttamente impegnati nelle scelte di indirizzo politico e con il conforto dell'ufficio di piano per quanto concerne la parte tecnica. Al contempo stiamo lavorando per pervenire in tempi brevi alla costituzione dell'azienda consortile di ambito nella direzione peraltro già indicata dalla regione Campania.